Salve amici del centro meteo italiano, ondata di caldo africano ma anche temporali su alcune zone d'Italia. Vediamo allora la tendenza meteo con gli ultimi aggiornamenti. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana ecco che l'anticiclone africano porterà i termometri oltre i 35 gradi su molte zone d'Italia, non escluse punte anche di 40 gradi in particolare su Puglia, settori interni delle isole maggiori. Tra lunedì e martedì le correnti atlantiche dovrebbero però allambire il nord Italia portando temporali intensi sulle Alpi e localmente sulle pianure adiacenti. Nella seconda metà della settimana l'anticiclone africano dovrebbe tornare ad espandersi sul Mediterraneo coinvolgendo soprattutto le regioni del sud. Dando uno sguardo anche sul lungo periodo sembra che la situazione sinottica possa incastrarsi con una circolazione depressionaria tra l'Atlantico ed Europa occidentale. In questo modo l'anticiclone per lo più quello africano non avrebbe particolari problemi a salire verso il Mediterraneo. Trattandosi di tendenze vi invitiamo come sempre a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.